Mancano barelle, medici ed infermieri e ancora a causa al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo a lanciare l'allarme alla funzione pubblica della CGL. Nella giornata di ieri si sono registrati notevoli disagi al pronto soccorso di Arezzo, hanno dichiarato il coordinatore di Aria Vasta Marco Vitelli e la segretaria generale di Arezzo Giulia Damario. Non si può accettare ad esempio che ci siano ambulanze in fila all'esterno che aspettino l'arrivo di barelle che all'interno del pronto soccorso sono esaurite. Era prevedibile che nel lungo ponte di Natale, prosegue la nota, il pronto soccorso si sarebbe intasato ma nulla è stato fatto. Ci siamo messi in contatto con l'azienda che ci ha confermato l'impegno di mettere mano alla situazione per evitare che si presentino le criticità, però questo avviene sempre in ritardo. Chiediamo, conclude la nota, che il pronto soccorso venga rafforzato e che ci sia una programmazione stabile, che vengano inseriti addetti già formati e non interinali che ancora fanno solo affiancamento, come avviene tuttora. Naturalmente sappiamo che ci sono i picchi orari e i picchi giornalieri, sappiamo che lì ci possono essere problemi. Stiamo spostando lì anche attività di continuità assistenziale, cioè medici che andranno in prossimità del pronto soccorso per le patologie assolutamente minori, che non necessitano l'accesso al pronto soccorso e siamo riusciti a trovare qualche medico in più perché si ne trovano anche con difficoltà da inserire, e anche infermiere, da inserire al pronto soccorso, soprattutto nei pronto soccorsi che vengono maggiormente assaliti, cioè quello per esempio di Arezzo. Vediamo, gennaio in genere è un mese molto complesso, vediamo questa volta se riusciamo a fare bene, comunque l'azienda sarà attentissima.